Musica Faccio la fiera da quasi sempre, cioè a parte il primo anno sono sempre stata qua, è sempre stata un'esperienza bellissima per me. Ciao, sono Stefano Nervi, azienda agricola, coltivatore diretto, coltivo, faccio un'artemisia, faccio tutto a mano dalla raccolta all'essecazione del metodo naturale e sono contento di essere qui anche se il tempo è terribile per certi aspetti, ma ci sono persone che vengono con gli ombrelli, con gli stivali. Quest'anno non è stata una fiera fortunatissima per il tempo, oggi ha provuto molto, ma nonostante questo i volontari si sono resi disponibili per rimontare gli stand, esporre i prodotti e noi siamo qui per vendere i nostri prodotti del commercio ecosolidale. Ciao, sono Andrea, siamo di Verde Sfuso Alimentare Biocosmesi, bottega di articoli naturali Sita Como e oggi siamo qui, come riconsueto, e da otto anni ormai a questa parte partecipiamo all'isola che c'è. Noi siamo lo stand Ziggy Zag and Made, facciamo cose per bambini, abbiamo accessori, vendettine, tante cose che facciamo noi. E quindi è giusto esserci in qualunque condizione e sarà bello comunque.